Siamo in Odrati Slovensko, io sono carriere Alessandro, la mia funzione è Plant Manager qui nella ditta. Nasce come prestituzione familiare nel 1960 circa, è sempre stato un gruppo diciamo con come core business La Gomma e alla fine nel 2004 ha deciso di istituire diciamo in Slovacchia, qua a Omenè, l'Ordrati Slovensko. L'Ordrati Slovensko nasce da un'esigenza oltre che di globalizzazione del mercato internazionale dal fatto che i nostri clienti hanno richiesto anche di avere una produzione diciamo un reparto produttivo più vicino alle loro sedi. Quindi in particolare parliamo di Electrolux, Indesit, Mille. I valori a gruppo Ordrati se noi parliamo diciamo come spirito è sicuramente una forte ricerca diciamo dell'ottimizzazione di quelli che sono i costi, una forte diciamo che si crede molto nel lavoro, si crede molto nelle persone, la persona è al centro di quello che è la ditta e in questo momento sicuramente il lavoro sta pagando. Grazie a tutti. Grazie a tutti.